Mi presento, sono Mario Puglisi, sono presidente del panorme del CPT. Che cos'è? Molti lo conoscono, gli uomini presenti nelle edilizie, le imprese, tanti altri magari ne hanno sentito parlare. Siamo un organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia. Siamo a gestire quest'ente tanto in numero del lance, quanti i sintagati. Siamo un ente paritetico, quindi stabiliamo decidendo insieme e abbiamo un peso uguale nelle decisioni. Di cosa ci occupiamo? Noi ci occupiamo di fare formazione e sicurezza. Andiamo nei cantieri, cerchiamo di essere vicini alle imprese, di spiegare come deve essere un cantiere apposta e in regola con la legge e siamo sempre vicini a queste imprese che cercano di lavorare in sicurezza. Oltre alla sicurezza dei cantieri e alla sicurezza quindi degli individui, dei lavoratori, dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori, ci occupiamo pure della formazione di loro. Quindi facciamo corsi di formazione per pontisti piuttosto che per trivellatori che piuttosto che per altre figure importanti per l'edilizia. Abbiamo lanciato venerdì scorso il progetto Palermo 4.0 in collaborazione anche con diverse altre associazioni come South Working e Global Shaper Palermo e Confindustria Palermo Giovani. Stiamo cercando di fare quello che viene chiamato di colmare il gap delle skills dei ragazzi palermitani che avranno un approccio nel mondo del lavoro. Abbiamo sottoposto un questionario a più di 30 aziende che ci hanno risposto indicandoci quali sono le carenze che ritrovano nelle nuove figure professionali. Abbiamo individuato quelle che sono le competenze, che sono quasi sempre quelle competenze informatiche sia di base che avanzate e quindi abbiamo programmato dei seminari, in questo momento saranno ovviamente dei webinar dato alla situazione, negli istituti professionali di Palermo. In questo momento è un progetto pilota con 75 ragazzi coinvolti che vedrà poi questi ragazzi con un progetto finale che sarà la stiratura di un curriculum, avranno la possibilità di avere un inserimento lavorativo all'interno di queste 30 aziende. Questo progetto quindi mira a ricordare alle persone che a Palermo ci hanno tante possibilità e che non è vero che le figure professionali come questo ente dimostra che ogni giorno ce ne sono sempre di più abbiano perso, diciamo, appeal, ma possono ancora, diciamo, dare un futuro e possono dare sicuramente concretezza agli studi che i ragazzi hanno percorso in questo periodo. Siamo a sostegno delle imprese, siamo a fianco delle imprese, non ci sottraiamo a niente. Quando c'è stato il problema del Covid siamo stati il primo ente a creare uno strumento affinché le imprese potessero rientrare e lavorare in sicurezza. Abbiamo un comitato che controlla proprio la sicurezza del Covid. Andiamo in tutti i cantieri, ci occupiamo della sicurezza di tutti perché l'operaio per noi è la cosa più importante, del resto oggi, ahimè, vengono a mancare, vengono a mancare persone specializzate, capaci. La realtà dell'ultimo anno è senz'altro l'attività in super bonus e in sisma bonus. L'ANCE Palermo ha stilato diverse convenzioni con diversi comuni e studi di progettazione che riguardano tutto l'itere procedimentale, che possiamo dire senz'altro non essere non facile, dalla fase di progettazione preliminare fino alla fase di esecuzione dei lavori. L'ANCE Palermo ha stilato diverse convenzioni con diversi comuni e studi di progettazione e metteva a disposizione i nostri uffici per seguire tutto l'itere fino alla fase di canterizzazione. Le particolari difficoltà sono legate senz'altro all'itere piuttosto complesso del super bonus con tutto l'itere procedimentale e documentale che riguarda più di 50 documenti. Da questo vanno aggiunte le difficoltà legate adesso allo smart work e quindi la difficoltà di accesso all'interno degli enti pubblici nel reperire tutti quei documenti utili per realizzare un progetto quanto più esecutivo e renderlo canterizzabile, considerato che il super bonus riguarda il salto delle due classi energetiche e quindi uno studio abbastanza complesso per far sì che si possa divenire a quelli che viene richiede gli adempimenti normativi. Grazie al database della Cassedile sappiamo i cantieri che si aprono e quindi siamo noi che andiamo spesso dalle imprese. Però è pur vero che tante imprese, dato il rapporto che ora si sta creando, vengono direttamente loro, ci chiedono direttamente loro di essere formati e di essere soprattutto di lavorare in sicurezza e quindi controllare i cantieri. E noi, grazie ai bravi tecnici che abbiamo, andiamo nei cantieri e seguiamo la sicurezza del cantiere. Noi preveniamo, non siamo degli ispettori, non facciamo multe, assolutamente. Noi vogliamo e instauriamo un rapporto con le imprese, cerchiamo di far capire l'impresa cosa significa lavorare in sicurezza per evitare gli incidenti, per evitare tutti quei problemi che possono nascere, per evitare le multe, perché ovviamente quando vengono gli ispettori poi gli ispettori dovranno fare il loro compito. Quindi se il cantiere è in sicurezza, se tutto va bene, non ci saranno multe e tutti saremo contenti. Ma soprattutto siamo felici e siamo contenti che la sicurezza dei nostri dipendenti è al top, è al massimo e noi cerchiamo di fare sempre questo. Il 2022 è un termine rettivamente breve, c'è un'ulteriore proroga che consente il raggiungimento del 66% dello stato di avanzamento dei lavori di prorogarlo fino al 2023 che è senz'altro un termine utile affinché si possono realizzare i tanti sperati interventi e di cui anche il tessuto collettivo ed urbanistico è bisognevole sicuramente di una riqualificazione energetica dei nostri immobili che ormai presentano uno stato di vetustà abbastanza avanzato. Le difficoltà sono innanzitutto legate a quelle che possa essere la conformità urbanistica legata a eventuali e varie modifiche che si sono apportate all'interno dei manufatti ed edilizzi di volta in volta e negli anni, che rende ancora più complesso l'adesione o meno al super bonus o al sisma bonus. In cantiere ce ne sono tantissimi di progetti, anche considerato l'arco temporale relativamente breve con la speranza che si possano realizzare tutti. Il problema principale che Ance ha manifestato è anche l'accessibilità e uno studio abbastanza avanzato di una collaborazione e di una sinergia che possa esserci fra i vari enti preposti, quindi dal comune all'ufficio edilizia ed urbanistica e ai vari studi di progettazione, nella fase avanzata di progettazione che è piuttosto complessa e fa sì di ottenere un migliore risultato nel più breve tempo possibile con la massima collaborazione di tutti gli organismi preposti affinché si possa ottenere il risultato sperato che è senz'altro avere degli edifici efficientati energicamente e anche dal punto di vista di un decoro urbano sicuramente più gradevole. Abbiamo organizzato dei corsi per la tecnica di isolamento termico a cappotto a protezione delle facciate, quindi quello che oggi si definisce facciata bonus facciata, quindi ci siamo occupati di questo, gli spieghiamo agli operai come vanno isolate termicamente, come va messo il cappotto, come deve essere protetta la facciata, tutti i lavori che si fanno e quindi diamo anche un'opportunità al giovane che vuole imparare un nuovo mestiere o vuole perfezionarsi nel mestiere che già lui conosce. Siamo stati ben lieti di partecipare a una iniziativa a livello nazionale che ci vede coinvolti in uno studio sull'invecchiamento e la salute dei nostri lavoratori in edilizia, questo al fine di fare proprio uno studio di quali sono le attività che i nostri lavoratori svolgono e di capire quali possono essere i fattori maggiormente di rischio durante le loro attività stesse. Riteniamo che ci sono tanti fattori di rischio che non vengono considerati nell'attività lavorativa in edilizia e che spesso sono sottovalutati ma che possono essere fonte di altrettanti pericoli o rischi che possono essere poi causa di danni per la salute dei nostri lavoratori.